Un comunicato stampa diffuso dal capogruppo di maggioranza Aurelio Calenda fa riaccendere ancora una volta luci ed attenzioni su San Marzano sul Salmo. Il capogruppo rilancia il patto sancito dai componenti della maggioranza ed invita tutti ad essere coesi ed uniti. La qualcosa spinge il sindaco annunziata a complimentarsi con il suo capogruppo per quanto affermato nel suo comunicato stesso. Si ritorna quindi nella città di San Marzano a dialogare fra consiglieri e giunta e si ritorna alla normalità con l'impegno. Almeno questo l'appello lanciato dal consigliere Calenda che sembra aver letto quando detto dal sindaco Cosimo annunziata un giorno prima. Diciamo che la giunta è rimasta tale e quale con qualche variazione di deleghe. Certo vi è stata anche una defianza da parte di qualche consigliere comunale ma voglio dire tiro dritto per la mia strada, consapevole di aver ricevuto un mandato di responsabilità prima di tutto ed è questo quello che ho ribadito più volte ai consiglieri comunali. Voglio dire chi si propone dopo all'obbligo di rispettare i patti amministrativi, all'obbligo di rispettare l'impegno preso verso la città non è sicuramente la defianza di qualcuno che fermerà l'operato e il programma di questa amministrazione. Certo sono dispiaciuto sotto il profilo umano principalmente ma anche sotto il profilo amministrativo perché sempre convinto che quello che possono fare dieci non riescono a farlo nove. Ma anche questo fa parte del gioco, non biasimo assolutamente nessuno per eventuali scelte fatte in difformità a quello che era il programma elettorale ma comunque la cosa non mi preoccupa più di tanto. Si va avanti di buona lena e bisogna compiere il proprio dovere, cioè da espletare il programma. Ripeto, io ho sempre ribadito questo concetto ed io credo debba essere il concetto alla base di chiunque si proponga di amministrare una comunità. Non vi possono essere certamente bag di carattere personale o simpatie o empatie che possano determinare il cammino di un'amministrazione o di un programma elettorale. Queste le lascio a chi ritiene di porle in atto per quanto mi riguarda. Confermo di nuovo che andremo avanti per la strada intrapresa cercando di dare quanto più risposte possibile alla comunità che amministra. Grazie a tutti.